Comunque mi non pò gara Sì, prima quindi vale la parola di prima Ti ricordi che hai stessa roba di là? E allora fanno un numero Eh ma le hai anche un mio petal Ho dovuto quella foto? Ah, va bene. Hai dovuto portare la sacca, no? Si, che è la sacca di rilassi. Rilassi, di un palazzo. E' bella quella. Si, è morto. Ok. Io non so che non lo provo. No, no. Guarda che i buoni sono strausi che mi aveva la rega lì. Io non so perché se è mai visto che sia. Mi sentite qui. No, è tutto, è tutto niente. Tutte le cose. E' altro che tutti i frutti. Questo è lì che va dentro il cane. In effetti siamo tutti qua. E' una garanzia comunque. E potrei andare a incendere se stesso. No, tira tanto. Prova che ha peso. Prova che ha peso. Prova. Manuasi grossa. E' una garanzia. 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 A parte che tanto io sono mortale. E' una garanzia. E' una garanzia. guarda se perché mi sa che c'è ingoiato e se me che taglio il fio proprio lì se metto tu i roventi ma qua siamo professionali tu hai visto l'arma, tu hai visto l'arma no, copertino del video carpa no carpa no Oh Sì, c'è una mano Sì, c'è un bel arano Aspetta e 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 io voglio metterlo su no sta lì, sta lì, bisogna metterlo in mezzo per vedere il mio filo e 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